No, lo metto su YouTube perché per messaggio è troppo lungo, non mi va Ma su YouTube non ti conviene metterlo da lì, dal video Non c'è sorbona Sai i tempi alla fine? Mamma mia Che animale ho Pucci cuci Ha saltato bene la ricchezza, così Guarda il video Me lo ridai che io ho guardato il video veloce E' questo? Yes Vi diceva di Dandy quando è andato all'asilo Dandy dove lo ha visto? Il primo è qua perché vuole un'altra Dandy è il supernome Io mi sto rifiutando di ripetere il fagiolino a lui Mi dico che schiava